Delibera d'urgenza dell'assessore regionale alla sanità palese per cercare di risolvere le criticità degli ospedali pugliesi, poter richiamare quei medici che erano a riposo, i pensionati sostanzialmente, per un massimo di sei mesi. Ecco, noi con l'Asra di Taranto e il direttore generale vogliamo capire se questo può dare rispiro alle nostre strutture, proprio nell'area ionica. Noi ce l'auguriamo, noi la Delibera l'abbiamo adottata e abbiamo anche fatto l'avviso pubblico che scade domani. Però voglio anche rassicurare i medici che non hanno saputo perché è una Delibera che è stata fatta in pieno ferragosto e quindi noi riapiamo i termini, non ci sono problemi. L'assessore palese punta a coinvolgere circa 400 medici in tutta la Puglia. Su Taranto, che numeri potremmo raccogliere secondo lei? Prendendo anche spunto dagli iscritti all'ordine dei medici, io penso che potremmo andare intorno a 70-80 medici. Da ottobre nuova linfa grazie all'apporto dell'università. I tirocini per i laureandi, che i primi quattro sono già al quarto anno e comunque ci sono i 60 iscritti del terzo anno e si avviano le clinicizzazioni. Si integreranno ai direttori delle strutture dei referenti universitari. Qualche tempo fa si era parlato di un apporto da parte di medici dall'Albania, albanesi. In questo senso cosa si è fatto? Deve passare attraverso delle disposizioni precise regionali, così come sta avvenendo in altre regioni. Quindi per il momento stoppiamo.